Come lo comincio sto video? Sono esattamente tre giorni che tento di registrarlo, ma arrivo a metà e mi interrompo perché non è proprio così facile. È un momento sinceramente che pensavo, ma soprattutto speravo non arrivasse mai, ma che indubbiamente è arrivato. Avviso sarà un video lungo, molto probabilmente per molti noioso, ma è un momento secondo me importante del canale, è un momento importante anche per me ed è giusto secondo me condividerlo con voi anche per avere una chiusura del cerchio. Cominciamo! Il mondo del motociclismo secondo me è bello perché è interpretabile. Se per esempio chiedi a un endurista che cos'è secondo lui l'essenza del motociclismo sicuramente ti risponde che è natura e tassello. Se chiedi al mototurista sicuramente ti risponde che è macinare chilometri ed esplorare. Se vai a chiedere a un biker, a un ciopper, a un biker sicuramente ti dirà che è radunarsi. Se invece veniste per esempio da me io vi risponderei che da quando ho 16 anni la mia essenza del motociclismo è la continua ricerca del proprio limite tra i cordoli. Ognuno di noi ha la propria visione del motociclismo, ha la propria visione soggettiva del motociclismo, ma quello che unisce tutte queste visioni è la passione per la moto stessa. Questa è universale che tu sia un endurista, sia che tu sia un crossista, sia che tu sia un biker, un mototurista o un pistaiolo. Risparmiamo, spendiamo, cadiamo, ci rialziamo e ricominciamo da capo. Facciamo di tutto per la nostra moto. Io per esempio mi ricordo come se fosse ieri che la prima volta che assaggiai quello che secondo me è l'essenza del motociclismo, la pista, nella mia testa la prima cosa che mi son detto è che avrei fatto di tutto per poterci tornare, tornare, tornare e tornare ancora. Ed è proprio in quel momento lì, già a 16 anni mi resi conto dell'ostacolo più grosso che ha questo ramo del motociclismo, questa nicchia del motociclismo, i costi. Il tempo passava e io cominciavo già a risparmiare, a mettere via la paghetta, a mettere via i soldi, cominciavo a risparmiare per potermi permettere quel sogno. Quando i miei amici erano a far serata il sabato sera io ero a casa a risparmiare. Quando si organizzavano le vacanze invernali o estive io trovavo qualsiasi scusa plausibile per restare a casa, andare con i miei e mettermi via i soldi. Quando usciva il nuovo gioco della PlayStation io magari avevo quello dell'anno prima, quando usciva la PlayStation 4 io avevo ancora la 2. Già a 16-17 anni quello che mi frullava in testa era mettere via quanti più soldi possibile per potermi permettere poi il mio sogno. Con il passato del tempo finisco la scuola, risparmio, 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 faccio i miei primi anni di lavoro, metto via quanti più soldi possibili per poter fare il mio esordio nel mondo delle moto da grandi. Parto bello soft. Hypermotard 1100S, una delle moto più ignoranti che io abbia mai guidato. Difficilissima, rigida, scorbutica, cattiva e aveva anche dei difetti. Linea ancora oggi secondo me intramontabile, bellissima, divertentissima se si aveva un minimo di esperienza in moto. Immaginate voi un giovane, 23-24 anni, prima moto grossa, 1100 raffreddato ad aria, frizione a secco, SC Project completo, una roba inguidabile, inguidabile. Che inevitabilmente mi fece subito accorgere della cazzata che avevo fatto, del passo più lungo della gamba che avevo fatto. Dopo un po' di mesi di guida mi sentivo già a Casey Stoner, prendo confidenza, un rettilineo, do troppo gas, c'era la curva a destra, arrivo troppo forte, mi spavento, pinzo con il freno davanti. La moto invece di stare in traiettoria, per fortuna solo la moto va a sbattere contro il guardrail e non ci vado io. Risultato? Forcella piegata, cerchio piegato, telaio piegato, carene dilaniate, insomma, mi aveva fatto capire la moto stessa nel giro di pochi mesi che avevo fatto il passo più lungo della gamba. La sistemo e la vendo. Un po' convinto da un amico che già la possedeva, un po' spaventato dalla scelta dell'ipermotard fatta, deciso di andare su una moto completamente diversa. BMW F800GS. Vado su una moto che mi permette di guidarla appunto 365 giorni all'anno per qualunque tipo di utilizzo. E infatti, proprio con quella moto lì, credo di aver battuto il mio record personale di chilometri fatti. Se non ricordo male, in un anno e mezzo avevo fatto 12 o 13 mila chilometri. La usavo veramente per tutto. Nebbia, pioggia, freddo, neve. La usavo sempre. Gite domenicali, gite in coppia, fuoristrada, strade bianche. Con quella moto lì ci ho fatto anche l'eroica ed è stata un'esperienza veramente fighissima che ancora oggi mi ricordo. Era una moto completamente diversa da quello che era il mio standard in testa di moto. Che però, col senno del poi, è stata molto probabilmente l'acquisto più azzeccato che io abbia mai fatto da quando ho 16 anni. Però nella mia testa sentivo che non era il genere di moto che sognavo. Non era la disciplina, non era il ramo di motociclismo che io sognavo fin da bambino. Sognavo fin da quando avevo 16 anni. Era la moto giusta, ma probabilmente nel periodo sbagliato. Nella mia testa c'era il continuo richiamo della sportività, il continuo richiamo del ginocchio a terra, il continuo richiamo dei cordoli. Decido di seguire il cuore, non la testa, ma con un minimo di cognizione di causa, con un minimo di cervello. E decido di andare su una brutale 800. Siamo passati dalla mega affidabilità del bicilindrico BMW a totalmente l'opposto. Perché? Ho detto con un minimo di cognizione di causa. Perché la brutale, come tutti sapete, è una necked. Io in cuor mio sapevo che non era ancora il momento per una supersportiva, non era ancora il momento per dedicarmi completamente alla pista, perché le finanze erano quelle che erano. Mi dicevo, devo comprare una moto che mi dia la possibilità di fare esperienza, quindi di fare chilometri su strada, fare magari una o due uscite all'anno in pista. Credo una delle moto più belle e divertite... No, la moto più bella sarebbe arrivata dopo. La moto più divertente che io abbia mai guidato, quando andava. Mi ricordo come se fosse ieri, come se fosse qui accanto a me, accesa il suono che aveva, con questo Silmoto completo, in titanio blu, rigorosamente senza di b-killer. Era una roba che quando passavo veramente mi facevo schifo da solo. Avevo vergogna dal casino che facevo. Carbonio ovunque, più rigida di una MotoGP, davvero, davvero bella. Ed è proprio con quella moto lì che inizia un po' il tunnel della droga, no? Decido di tornare a Castelletto. Io ci ero andato la primissima volta, quando avevo 16 anni, con la mia usquarna 125. Decido dopo 8-9 anni da quel giorno di tornare a Castelletto, tornare in pista, tornare nell'ambiente in cui a 16 anni mi fece completamente innamorare di quel ramo del motociclismo. Me lo ricordo come se fosse ieri. La mattina vado al lavoro con la tuta, vado al lavoro, mi cambio, faccio la mia giornata di lavoro, finisce la mia giornata di lavoro, mi rimetto la tuta, vado diretto al serale di Castelletto. 30 euro, tre ore di serale a Castelletto. Peso come una corda di violino, emozionatissimo, perché era effettivamente il mio primo rientro in pista con una moto da grandi, no? Ricordo ogni singola emozione come se fosse ieri. Ho fatto cagare, cagarissimo, a malapena ho grattato il ginocchio. Ricordo veramente come se fosse ieri. Era un'emozione pazzesca. Finisco e in cuor mio sapevo che comunque in quel momento l'unica cosa che potevo permettermi di quell'ambiente lì, dell'ambiente pista, era proprio quello che avevo appena fatto. Un serale a Castelletto. Però nella mia testa già mi dicevo io devo inventarmi qualcosa per potermi permettere di girare nelle piste grandi, nelle vere piste. Ed effettivamente è da quella serata lì che tutto cambiò. Nella mia testa già sapevo che quella moto lì andava venduta. Nella mia testa sapevo già che il mio unico scopo da quando avevo 16 anni, che avevo provato l'emozione della pista, era una moto super sportiva. Era la moto che io vedevo nelle gare di MotoGP, nelle gare del mio idolo Valentino Rossi. Era quel genere di moto lì. Metto in vendita l'MV, un calvario per venderla, lasciamo perdere. Compro quella che secondo me è stata la moto più bella che io abbia mai avuto. E molti di voi si chiederanno e mi hanno chiesto in passato ste, ma perché 899 e non 1199? Finalmente perché l'errore di fare il passo più lungo della gamma l'avevo già fatto con l'ipermutarla. Non mi sembrava il caso di rifarlo nuovamente, soprattutto con un genere di moto che non avevo mai guidato. Io entravo nel mondo super sportivo, quindi dovevo affacciarmi anche in un genere di moto con una posizione di guida che io non avevo mai affrontato, non avevo mai guidato. E poi, sono sincero, il budget era già stato ampiamente superato con la 899, figuratevi con la 1199. Anche in questo caso qui mi ricordo veramente come se fossi ieri, come se fossi andato ieri a ritirarla il giorno del ritiro. Ma non solo il giorno del ritiro, io mi ricordo tutti i mesi prima, tutti i file Excel con i conteggi al centesimo. Questo mese metto via 500, il mese prossimo 550, il mese lato arriva alla tredicesima, quindi posso metterla via, il budget veramente lo ricordo. Ho risparmiato fino all'ultimo bicchiere di acqua. Arriva il giorno del ritiro, tremavo talmente tanto che alla prima partenza da sotto casa dell'ex proprietario, l'ho fatta spegnere due volte, esco dal cancello dell'ex proprietario, giro l'angolo, il primo parcheggio che vedo libero, mi fermo, la spengo, e resto dieci minuti, li fermo a guardarla così, perché ancora non ci credevo che ero riuscito a coronare il sogno, il sogno di una moto sportiva, ma non una moto sportiva qualsiasi, una delle moto sportive che io sognavo da anni, era il mio sogno, ed ero riuscito a coronarlo. Faccio chilometri su strada, dopo due o tre giri mi rompo subito il cazzo, perché mi rendo conto che una moto del genere, usata da milanesi, imbruttito è assolutamente inutile quanto il traction control sul T-Max, gli abitanti di Milano per poterci fare quattro curve in serie dobbiamo metterci sull'autostrada, fare 150 chilometri, arrivare sul passo e sperare di non trovare macchine davanti nelle quattro curve che andremo ad affrontare, perché se no fai 150 chilometri, ti trovi anche le quattro macchine davanti nelle curve che devi fare e ti sei giocato il giro. Hai speso 30 euro di benzina, hai investito mezza giornata del tuo tempo e non ti sei neanche divertito. Proprio per questo motivo qui decido di tornare a Castelletto con il genere di moto che avevo in testa da anni, con il genere di moto dei miei, con la moto dei miei sogni. Anche in questo caso qua, mi ricordo come se fosse ieri, era un sabato, anche in questo caso, intutato, stivali, guanti, paraschina, casco, tutto, parto da casa direttamente in moto, arrivo a Castelletto, accompagnato sempre dalla povera Vale che mi dava sostegno morale. Mi ricordo come se fosse ieri le emozioni del primo ginocchio a terra con la moto supersportiva. Mi ricordo come se fosse ieri quando la Vale facendomi le foto mi ha fatto vedere le foto e mi sembravo che esistò nel 2007, con la Desmo 16. Mi sentivo veramente un figo, anche solo a grattare il ginocchio. Mi ero divertito veramente tanto, anche in quel caso là, con gomme stradali, le pressioni, nemmeno sapevo cosa fossero. In quel momento lì, mi decisi che forse era il caso veramente di cominciare il progetto che avevo in mente da mesi e mesi, che non ho mai messo in atto per problemi personali, che vabbè, non stiamo qui a raccontare, decisi di aprire il canale. Il canale St89. Con lo scopo di A, condividere le mie esperienze con questa nuova moto, io ero felice di condividere la mia felicità nell'aver acquistato la moto dei miei sogni e raccontare il mio approccio con questo genere di moto qui. I primi video erano di prova, su strada, mentre mi iscrivo su Facebook in un gruppo di Panigale, Ducati Panigale Italia, e comincio a conoscere gente che realmente viveva la pista, realmente comprava la moto e la utilizzava solo in pista, e gente già con esperienza in pista. In silenzio cominciavo ad apprendere, a parlare, a cercare di capire come funzionasse questo mondo delle piste grandi. Comincio piano piano a conoscere persone. La prima persona di questo gruppo che conosco, un certo Corrado, mi manda un messaggio e mi dice Oste, settimana prossima io vado a Cremona, vuoi unirti? Non ho saputo dir di no. Nella mia testa, nel mio cuore, mi dicevo ma dove cazzo vado? Non sono in grado in una pista così grande. Magari c'è gente molto più veloce, mi passano sulla schiena, non sono ancora in grado. Però, un primo passo, prima o poi, bisognava farlo. Non avevo niente, ragazzi, non avevo niente. Carrello, manometro, gomme in mescola, gazebo, sedia, non avevo neanche la tannica della benzina. Quindi ci siamo fermati al benzinaio, io ho fatto il pieno raso alla moto e sono entrato in pista con la moto col pieno raso. Mi compro il necessario che in quel momento era un sottotuta e una sedia. Prado mi viene a prendere dalla Svizzera, scende, mi viene a prendere e andiamo a Cremona. Non c'eravamo mai conosciuti, mai parlati faccia a faccia, solo virtualmente. Di quella giornata lì ho fatto il mio primo video in pista del canale Sto89 ed è, secondo me, in quel video lì che si è anche creato il personaggio Sto89. Ve lo linko qua sopra a destra perché secondo me è veramente l'inizio del progetto che io avevo in mente da mesi e cioè far capire alle persone che non hanno mai provato la pista cosa prova un amatore nelle sue giornate in pista. E fu una giornata veramente che io ricordo come se fosse ieri, ricordo quanto io abbia fatto cagare in quella giornata lì. Prima volta a Cremona su circuito vecchio ancora avevo fatto non ricordo se 46 o 48, veramente, una roba ma solo per il fatto di essere lì in quel momento con quella moto in quella pista io mi sentivo arrivato per me andava già bene così. Il problema è che fu l'inizio della fine cioè fu l'inizio della dipendenza fu l'inizio del tunnel della droga infatti da quel momento lì io tornai a casa la targa non la rimontai più cioè io non rimontai più la targa smontai i fari smontai le frecce smontai gli specchietti smontai le carene originali della moto comprai carene da pista tappo fari basta la moto era solo pista fu la conferma di quello che pensavo a 16 anni la conferma di quello che pensavo alla fine della prima giornata con la brutale e alla fine della prima giornata a Castelletto con la Panigale io volevo fare quello cioè quello era la mia aspirazione io volevo fare esclusivamente quello la strada non mi bastava più il resto è storia i veterani del canale sapranno che da quel momento lì tutto cambiò ho documentato praticamente tutto di quei momenti lì iniziarono già in quei primi momenti lì le prime collaborazioni Fulvio già già vide che che c'era un minimo di futuro per me molto probabilmente si intravedeva anche un minimo lui in me e cominciò un po' a buttarmi dentro questo mondo mi disse una frase che io ricordo ancora come se fosse ieri e che effettivamente è tornata indietro non voglio spaventarti ma se vuoi lavorare in questo mondo qua ti accorgerai che questo è un mondo di merda in quel momento lì ero talmente contento ero talmente euforico che quello che mi bastava a me erano i 20 minuti di turno dentro una pista da grandi con la mia moto dei sogni a me bastava questo tempo passa pian piano miglioro le pistate aumentano le conoscenze aumentano i numeri del canale piano piano aumentano e mi prendo le mie primissime soddisfazioni arrivo a un buon punto con dei numeri buoni che garantisco che nel momento storico in cui siamo ora per una nicchia del motociclismo come la pista per una nicchia ancora più piccola del motociclismo in pista che è quello degli amatori fare quei numeri lì e andare a collaborare con certi tipi di aziende era realmente una soddisfazione preso un po' dall'entusiasmo preso dal momento decido ancora una volta di fare il passo più lungo della gamba vendo la panigalina e vado a prendere quello che per un amatore in pista è il totem è il punto di arrivo che inevitabilmente sognano un po' tutti parliamoci chiaro il 1000 moderno il 1000 con i controlli elettronici piattaforma inerziale quello che più si avvicina ai prototipi MotoGP era il momento giusto per farlo le collaborazioni andavano bene il canale cresceva bene c'erano le condizioni giuste per farlo volevo mettermi alla prova in quel momento lì con la massima espressione della moto in pista il 1000 moderno volevo provarlo e anche in questo caso quello che successe dopo è storia lo conoscete quasi meglio voi di me ho documentato tutto l'unboxing l'acquisto le prime modifiche il rodaggio i primi giri le prime impressioni la prima pista trovo bene con questa moto è una moto facile amichevole che va fortissimo ma soprattutto mi piace perché è sottovalutata nel mentre i numeri crescono ma cominciano a scricchiolare alcune cose con certi personaggi è inevitabile quando i numeri aumentano aumentano anche le rotture di palle aumentano le inculate parliamoci chiaro nel mio caso però in quel periodo la percentuale di inculate era nettamente più alta voi per fortuna non conoscete praticamente niente di tutte le cose che sono successe in questi tre anni collaborazioni con brand molto importanti saltate perché un cinquantenne che si diverte a fare gli influencer voleva talmente metterti i bastoni fra le ruote che mette addirittura a rischio la tua vita privata per abbatterti per romperti le palle presentazioni di 10 15 contenuti che presenti appunto a un brand che ti risponde non ho abbastanza budget e due mesi dopo vedi gli stessi identici contenuti che avevi presentato tu fatti da un altro content creator che è praticamente in penna in zona industriale pretendono 10-15 video per un prodotto che ti inviano da 200 euro cioè cose cose così cose che iniziano un po' a a puzzare iniziano un po' a farti dire sì ma io non devo star male per queste cose qua io devo vivermi la mia passione cioè io devo andare in moto non voglio farmi rovinare intere stagioni come è successo per questi personaggi qua inizio un po' a stufarmi inizio un po' a puzzarmi questo connubio social e motorsport ma non demordo non demordo inizio il nuovo anno mi metto ancora sotto quello che racimolo è pochissima roba pochissima roba dico vabbè dai vediamo come va faccio quello che posso riesco ancora una volta a rimandare tutte le cose che la vale continuava a chiedermi tra le bestemmie sue riesco a a metter via qualcosina per fare quelle due o tre modifiche al GSXR base che ogni pistaiolo fa scarico completo mappa e tubi diretti non cambio nient'altro mono forcelle la pompa freno che tutti definono pompa freno del GSXR 1000 originale come fai a usarla in pista 40.0 a Cremona faccio quelle cose base e giro non mi interessa di tutto il resto voglio girare io voglio esclusivamente girare con i miei amici e divertirmi il 2022 sapete meglio di me come è andato quattro giornate di cui una con un dito rotto e due senza crociato anteriore del ginocchio destro ma arriviamo al dunque questo sarà 40 minuti di video il GSXR è stato venduto ormai è stato venduto da 15 giorni più o meno è una settimana che provo a fare questo video per dirvelo era importante farvelo sapere visto che la maggior parte di voi fanno parte ormai di questa mia vita da pistaiolo motivo è presto detto due anni di GSXR 1800 km di cui 1000 di rodaggio quindi due anni di pista 800 km scarsi e con uno stipendio medio italiano tenere 19.000 euro di moto ferma giù nel box a marcire per usarla quattro volte l'anno sembrava veramente un insulto un insulto a tutti i sacrifici che faccio per potermi permettere quelle quattro giornate all'anno l'aggravante che in quelle tre quattro volte all'anno che la usi entri con il culo talmente stretto per paura di lanciarla che non ti godi neanche il momento in cuor mio sapevo che se avessi fatto una minima scivolata con quella moto lì io avevo completamente finito di andare in moto cioè con le mie possibilità avevo completamente finito di andare in moto era un controsenso totale garantisco che scrivere l'annuncio della moto ci ho messo praticamente una settimana ogni volta lo scrivevo lo finivo e non lo mettevo online non avessi preso il 1000 avessi preso un 600 usato da 6.000 euro sarebbe cambiata la mia situazione attuale molto probabilmente questa scelta che ho preso sarebbe stata solo posticipata di un anno cioè avessi preso un 600 magari la scelta che ho preso non sarebbe stata presa ora sarebbe stata presa il prossimo anno perché comunque i costi sono quelli parliamoci chiaro con una moto 600 vai a risparmiare esclusivamente sul consumo delle gomme poi quando cominci a spingere si consumano meno ok consumano sicuramente meno del 1000 ma si consumano vai a risparmiare che ne so 100 150 euro di consumo a giornata delle gomme non sono i 150 euro nel complessivo della giornata che ti cambiano la vita il costo della pista ce l'hai lo stesso il trasporto ce l'hai lo stesso la benzina ce l'hai lo stesso il pernotto ce l'hai lo stesso il mangiare ce l'hai lo stesso tutto sommato con una moto 600 vai a risparmiare esclusivamente di gomme quello che realmente è il pro è che non hai 19.000 euro di moto ferma nel box ma hai 5 6 7.000 euro fermi nel box ma anche in questo caso ha senso avere 6 7.000 euro fermi nel box per usarla 3-4 volte l'anno con questa ottica di fare 2-3 giornate l'anno ha quasi più senso un noleggio rispetto ad acquistare la moto quindi se sommiamo poi tutto questo ai continui e costanti aumenti con cui abbiamo dovuto scontrarci nell'ultimo anno gomme ormai alle stelle benzina ormai alle stelle le piste che inevitabilmente aumentano se sommiamo tutto e io me li sono fatti i conti di quanto può costarmi una giornata in pista al mese che è quando va bene una giornata in pista al mese non vi faccio vedere cosa è uscito come se ogni mese io pagassi due mutui per quanto mi riguarda mio malgrado in questo momento non è più sostenibile non è più sostenibile ora che la famiglia 189 è composta da due individui io e la Vale immaginate voi nell'eventualità la famiglia 189 dovesse allargarsi se faccio fatica ora se non posso più permettermelo ora figuriamoci quando la famiglia sarà allargata il motivo di questa scelta è tutto quello che ho appena detto ma è anche altro il canale doveva essere un modo per aiutarmi a sostenere le spese di questa stramaledetta passione e tutto sommato devo dire che nel giro di tre anni tra alti e bassi più o meno ho raggiunto il mio scopo che perché ve l'ho sempre detto io senza canale avrei già smesso due anni fa la realtà dei fatti è che mentalmente sono entrato in un mood che chiamano burnout cioè mentalmente sono finito sono esausto tre anni e mezzo questa continua ricerca costante ogni anno di trovare un modo per potermi permettere la stagione che verrà anno dopo anno mi ha seriamente mangiato il fegato non è facile nella tua testa sapere che se non trovi sostegno non puoi permetterti la stagione non è facile abbassare sempre la testa con i personaggi che fanno parte di questo mondo del motorsport è veramente un mondo ve lo dico sinceramente pieno di ignoranti il fatto è che andarsi a scontrare con dei muri di ignoranza in questo mondo qua veramente anno dopo anno mi ha sempre più piano piano mangiato dentro i fatti che ho citato prima che sono accaduti che hanno anche toccato la mia vita privata tutte queste cose sommate mi hanno un po' fatto schifare il mondo che ho sempre sognato che negli anni ho sempre sognato e ho sempre desiderato il mondo che ho sempre fatto di tutto per poterci entrare il mondo che non mi faceva dormire di notte per trovare una soluzione per potermi permettere un Mugello per potermi permettere un Misano per potermi permettere un treno di gomme in più per potermi permettere una giornata a Cremona piuttosto vendevo il culo ma per quei 20 minuti di turno avrei fatto di tutto e molto probabilmente non è stata la soluzione migliore perché poi con il passare del tempo sono arrivato a questa condizione una cosa che volevo talmente tanto alla fine ti ha mangiato dentro quando arrivi a un punto dove non riesci più a goderti quello che ami fare è il momento in cui devi dire alte cosa stai facendo e perché lo stai facendo arrivi a un punto dove la la razionalità ti fa dire mando a fanculo tutti non voglio più rotture di coglioni da nessuno mi pago ogni minima cosa io pago l'ingresso in pista pago le gomme pago leve freno pago le pedane pago gli tagliandi pago tutto ma vado in pista e penso solo a girare in pista penso solo a divertirmi con i miei amici penso solo al mio obiettivo io sono arrivato effettivamente a questo punto già dall'anno scorso ma ho fatto finta di non farmi la domanda farò ora e cioè posso permettermi di fare tutto questo senza avere rotture di coglioni da parte di nessuno per come la vorrei fare io per come ce l'ho in testa io la risposta è no inevitabilmente a 33 anni le mie priorità stanno cambiando le priorità non sono quelle che avevo a 25 a 28 anni sono contento della scelta a cui sono arrivato no me ne pentirò molto probabilmente sì ma in cuor mio posso dire di aver fatto veramente di tutto anche di essere stato male mentalmente per potermi permettere questa passione ho fatto di tutto veramente di tutto ma evidentemente se sto facendo questo video se sono arrivato a questo punto non è bastato perché gli errori non possono essere esclusivamente del mondo del motorsport c'è stata una mancanza anche mia evidentemente gli errori li ho commessi anche io non è un addio non è un addio è un arrivederci anche perché ci si può comunque vedere in altri lidi in lidi non ancora esplorati in lidi che fino a questo momento ho esplorato poco proprio perché concentravo tutto su un'unica passione tralasciandone magari altri sul canale magari ci rivedremo ci rivedremo con altri tipi di contenuti ci rivedremo pista non in prima persona ripeto non è un addio è un arrivederci io credo che la frase giusta l'abbia detto un mio iscritto su instagram è uno sport del bastardo il motociclismo ti rapisce ti emoziona e poi ti fa capire inesorabilmente che non fai per lui qui Grazie a tutti